Vorrei che quando glielo chiodessi il mio cane si sieda. Vedo gli altri cani sedersi quando il proprietario glielo chiede. Il mio cane non si siede neanche se lo prego. Quante volte abbiamo detto queste cose sul nostro cane e quante volte abbiamo pensato che non l'avrebbe mai imparato. Sedersi per il cane è naturale ma diventa un esercizio quando gli viene chiesto e come tutti gli esercizi va svolto nel tempo prima di essere appreso. Sono Marzio Sala, presidente di Affinity Dog e direttore della scuola per educatori cinofili. Oggi ti voglio spiegare la natura dei comportamenti del cane e della loro evoluzione in modo tale che tu la possa capire. Prendiamo per esempio il seduto. Il seduto è un comportamento che il cane assume mediante richiesta ma anche naturalmente. Ecco è questa la differenza sostanziale. I primi vengono chiamati comportamenti appresi mentre i secondi comportamenti innati. Sostanzialmente quello che facciamo con l'educazione di base è proprio insegnare al cane ad assumere comportamenti naturali con un nome, in questo caso il seduto. Il seduto è un comportamento molto semplice da insegnare al cane e si può fare in diversi modi, vediamone alcuni. Il primo è aspettare che il cane si sieda a un'autonomia e poi premiarlo. Dopo diversi tentativi cominciare a pronunciare la parola seduto e con il tempo ridurre l'uso del premio sostituendolo con un bravo o con un altro elogio. Il secondo è prendere un bocconcino, metterlo nella mano destra, alzarlo sopra la testa del cane ed aspettare che il cane assuma la posizione desiderata. In questa fase non premiare il cane perché il cibo è uno stimolo. Cominciare ad inserire il segnale seduto ed abbinarlo al cibo e attendere la posizione del cane. Il cibo non va assolutamente dato, fare questa associazione più volte, non c'è un numero definito e alla fine togliere il bocconcino se alla parola seduto il cane assume la posizione richiesta. Questo vuol dire che il comportamento è stato appreso, cioè imparato. Successivamente passare ancora al metodo 1 ed inserire il bocconcino come premio. Come hai potuto vedere il meccanismo non è complicato ed è un comportamento naturale che però il cane apprende. L'addestramento è un processo semplice se visto con l'occhio giusto che viene fornito solo dalla lettura del cane. Se ti è piaciuto il nostro video metti un like al nostro canale YouTube. Grazie. 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 Grazie.